Spintoni, pugni, insulti, umiliazioni di ogni tipo, costretti persino a mangiare la pasta dal pavimento per punizione. Vittime di anziani ospiti di una struttura in provincia di Parma, Villa Matilde a Bazzano di Neviano, dove sono stati arrestati sette dipendenti della cooperativa KGS Caregiver. Ad operare stamattina i carabinieri di Parma su mandato della procura, sulla base di prove raccolte durante le indagini attivate lo scorso ottobre. Le intercettazioni audio e video hanno dimostrato i continui atti di violenza e mortificazione. Schiaffi, calci, tirate di capelli, minacce come ti prendo e ti butto giù dalla finestra. Umiliazioni continue per i circa 70 anziani ospiti della struttura, dei risi lasciati a terra durante la notte fino al mattino, fino a quando un telo scenante ha rotto il muro di omertà, raccontando l'episodio in cui un'operatrice ha preteso che un anziano mangiasse la pasta da terra, deridendolo. Grazie. Grazie.